Bentornati carissimi amici di Briciole di Storia, oggi con storia, storia vera, non che un apri scatole vintage non sia storia, forse più ricordo, ma noi, come mi diceva prima il professore, spaziamo, andiamo dall'apri scatole alla Seconda Guerra Mondiale. Dall'attaccapanni al libro del 1600, qualsiasi cosa. E oggi parliamo della Seconda Guerra Mondiale, attraverso cosa però? Attraverso delle copie, ahimè, non abbiamo gli originali, ma sono del museo, di giornali del 10 giugno. E invece un'opera autentica, che è questa qui, che è un'opera che voleva fare storia, infatti lo faceva, che risale al 1978, come c'è scritto laggiù in fondo. E quindi ci rievoca, ci riporta indietro nel tempo al 1940, il 10 giugno, quando il Duce, ahimè, decide che tanto vale entrare nella Seconda Guerra Mondiale, perché tanto Italia sta vincendola, sta conquistando metà della Francia, ha sfondato il fronte, ha rinchiuso gli inglesi verso Dunkerque, che lo sta facendo, e quindi partecipiamo al banchetto, dobbiamo prendersi anche in qualche cosa, la Tunisia per esempio, dei possedimenti sull'Adriatico, dobbiamo riprendersi nella Savoia, perché no? E sarà facilissimo, perché tanto la Germania ha già vinto la guerra, e quindi noi approfittiamo dell'occasione. Pubblicano delle immagini interessanti, questo è un manifesto dell'epoca, in cui temevano lo spionaggio inglese, francese, che in realtà non so cosa potesse spiare, poi c'è Mussolini con tutta una serie di incontri, con i parati militari, con i nostri potenti mezzi, un bellissimo manifesto appeso su un palazzo di Roma, con le colonie, con le nostre colonie, che oggettivamente non erano piccole, erano difficili da governare, soprattutto l'Abissinia era lontanissima, e devi passare dall'ossetto di Suez per portare qualche cosa, quindi siccome il Suez non era controllato da Roma, ma dagli inglesi, tutto quanto era un po' un campato per aree, comunque delle grandi colonie sicuramente, e questo poi intervista persone che si ricordavano di questo periodo, e questo è un bel manifesto in cui accanto alle bandiere giapponesi, giapponese, tedesca e italiana, quella degli alleati di serie B, tra cui rientra la Romania, la Finlandia e altri piccoli stati che in qualche maniera concorrevano allo sforzo bellico, che in realtà era tutto sulle spalle di Germania e Giappone quando entrerà in guerra, e un pochino anche sull'Italia che ha fatto quel poco che poteva. E qui abbiamo le testate, le copie, che comunque mantengono la loro emozione, nel senso che sono proprio la copia del giornale uscito all'ora, e questo è l'Italia, quotidiano cattolico del mattino, perché c'erano alcune testate che uscivano anche due volte al giorno. C'è poco da dire, l'annuncio che il duce, questa è la foto originale, questa è la foto non originale, è la foto storica, dal balcone di Palaccio Venezia, dichiara semplicemente che la guerra è già stata fatta, non è che è stata in qualche maniera discusa in Parlamento, no, no, la dichiarazione di guerra è già stata consegnata, se mi piazza è così, se mi piazza è così lo stesso. La folla esulta, non si sa bene perché la propaganda aveva fatto il suo lavoro. E qui c'è proprio il testo scritto, e quindi la dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia, scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionare dell'Occidente, c'è tutto il testo del discorso fatto dal balcone, l'ora solenne, le citazioni delle parole utilizzate all'interno del testo. E questa cosa qui mia mamma se la ricordava, me la ricordava e se la ricordava, l'oscuramento. Cioè la sera era obbligatorio non fare uscire luce né dalle finestre né dai fari delle macchine, quindi è tutto oscurato per il vericolo che il nemico vedesse con gli aerei. E qui abbiamo una situazione in Francia che è disastrosa oggettivamente per i francesi, i francesi, detto male, le stanno prendendo... Qui erano sulla linea Maginot già sfondata, già sfondata la linea Maginot. Se non è Dunkerque quasi. Quindi i francesi avevano paura che i tedeschi arrivassero a Parigi e ci arrivano pure. E certo. E questo è proprio il popolo d'Italia, con il datore Benito Mussolini. Quindi nel suo giornale, tutto sommato, di quando era stato socialista, quindi ha fatto un po' dei salti di qua e di là. E questa è la... Di nuovo anche qui c'è tutta la lettura del discorso. Popolo italiano corri alle armi. Peccato che le armi italiane non è che fossero tecnologicamente molto avanzate. E quel poco che erano tecnologicamente avanzate non erano prodotte industrialmente, ma in maniera semi-artigianale. Quindi avevano anche delle cose belle, ma pochissime. E' stupefacente come, adesso noi guardiamo un po' tutto, anche in un momento così tragico, carico emozionalmente o quello che vuoi, la pubblicità comunque rimane. Il lancio del giornale deve essere... Certo, quello continua, cioè l'economia continua, la vita continua, sia prima che durante che dopo la guerra. E quindi anche il sorriso dei bimbi, sempre delizioso, Ibs, il sapone e il dentifricio. Sapone e il dentifricio, quindi si metteva lo spazzolino sul sapone. Porretta testa, urgenti, condizionamento e frigoriferi, mobili, polveri, forze idrauliche della Liguria, insomma, è veramente particolare. Nel frattempo a fianco il re imperatore ha clavato alla legge, il blocco d'acciaio nel Mediterraneo, eccetera, eccetera. E questi sono i più interessanti. Gli altri due sono del giorno dopo, quindi narrano quello che è successo il giorno prima, quindi sono del giorno undici. E addirittura il re va a far visita alle truppe. Il re e i Savoia, per tradizione, erano loro il comandante supremo dell'esercito. Invece in questo caso Vittorio Emanuele III cede in pratica il comando a Mussolini. Una cosa che i suoi antenati non avevano mai fatto, cedere il comando dell'esercito a qualcun altro. Ricordiamo che i soldati giuravano fedeltà al re, quindi è una cosa importante. Si può opinare che sia giusto o sbagliato, ma giuravano fedeltà ed ufficiali in maniera particolare. E infine il Corriere della Sera, che tra questi giornali è l'unico che ancora oggi c'è, del pomeriggio però, perché anche lui aveva più uscite. Inizia le stesse cose. Questa è la stessa foto, guarda che bella. In due momenti diversi. In due momenti diversi, ma è la stessa ambientazione, con lo stesso balcone. Si vede, si vede, si vede. Tutto il popolo intorno al Duce anche perché... Parola d'ordine vince, qui abbiamo di nuovo il testo, sovranno a Fidaldu c'è il comando delle operazioni. Il motto era vincere vinceremo, ma infatti è diventato vincere... Come mai sono sicuro del vostro valore, patriottismo, popolo italiano, eccetera eccetera. E dietro, in questo caso, con fiammeggiante volontà di lotta e gloria, grandiosa manifestazione all'ambasciata italiana. Enorme repercussione mondiale dell'intervento italiano. Ovviamente la notizia, sicuramente a livello internazionale, di un appoggio così importante, aveva magari non fatto tremare, però... Sicuramente era una cosa importante. ...orientava anche altri poi successivamente magari a spostarsi in quella direzione. C'era anche un po' di blef, cioè l'Italia figurava tra le grandi potenze europee, senza esserlo del tutto. Come sempre. Una piccola grande potenza, ecco. Che è la nostra caratteristica, riuscire a gonfiare le piume di pavone, il petto un po' più di quanto... Una cosa del genere. Però poi, quando devi chiudere la questione, poi finisce male. E quindi, passando attraverso il vintage nell'antico, nel vecchio, abbiamo raccontato un pezzettino di storia. Un pezzettino drammatico che ha segnato la storia, o dei nostri genitori, o delle nostre nonni, se gli è andata bene, che sono rimasti vivi. Certo. Perché di alcuni, come dire, l'attuale generazione non esiste, perché sono morti in guerra. Assolutamente, è una guerra purtroppo, è un momento drammatico. Quindi, vi salutiamo, vi invitiamo a mettere un like, a condividere e a iscrivervi al canale se non l'avete fatto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!